Il dato fondamentale è che si restituisce alla città un'opera poco nota, anche se era sotto gli occhi di tutti da molti secoli, però poco considerata, soprattutto per la distanza, per l'altezza in cui si trova ed anche per le cattive condizioni in cui questa versava e che rendeva difficoltoso anche proprio capirne, leggerne il soggetto. Per cui è stato un restauro veramente attento, molto calibrato, rispettoso della situazione, vedendo il prima e il dopo, sembrano quasi due opere diverse, però vi assicuriamo che non è stato aggiunto niente, solo consolidato, fatto la pulitura, reso ovviamente solido per affrontare nuovi secoli. E quindi in base a questo abbiamo raccolto tanto materiale, siamo intervenuti anche con tutte le indagini diagnostiche possibili e raccolto una grande massa di osservazioni. Un osservato da vicino, quest'opera ha rivelato una qualità assolutamente inaspettata, ma molto alta, come molto alte sono le forme di invenzioni della struttura, l'impianto prospettico, la delicatezza del modellato, l'attenzione ai mille particolari, delle soluzioni assolutamente innovative e in piena linea con quanto di più nuovo si stava sviluppando nella cultura fiorentina del primo rinascimento. Per cui tutto questo ci ha portato a rivedere un po' quelle che erano le linee interpretative dell'opera e a confrontarle con la produzione coeva dell'epoca e soprattutto le caratteristiche tecniche dello stucco che si accompagnano alla produzione di ricordo proprio classico che alimenta la nascita del primo rinascimento fiorentino. E quindi l'altissima qualità poi anche del modellato che dà alle figure un'impronta anche molto umana, molto anche drammatica in alcuni aspetti, ha portato a rivedere l'attribuzione ormai consolidata a Andrea della Robbia nella seconda metà del 400 e spesso indicata anche verso la fine, ad anticiparne la realizzazione e a porla in contatto e avanzare, diciamo una proposta che è semplicemente una proposta indiziaria perché mettendo insieme tutti gli indizi è venuto quasi spontaneo il riferimento alla cultura donatelliana e forse anche proprio un diretto intervento visto l'alta qualità del maestro e quindi ci ha permesso di istituire tutta una serie di collegamenti e di confronti. È semplicemente appunto una proposta che è bisognosa di ulteriori approfondimenti e anche magari del rinvenimento di qualche documento che per ora non è stato possibile ancora trovare e che comunque permette di rendere alla città un'opera che è di indubbio e di altissimo valore accompagnata da una documentazione finora inedita sulle sue reali condizioni.